delle moltitudini di sacrosanti diritti alla salute e alla vita, ma qualcuno che ha compa tutto che è l'ambiente! Ambiente! Che è il vero problema dei problemi dell'ambiente rispetto ai confronti dell'oltre. Ed ecco, Tristan, il suo bene del 1995, Can Saro We Want, insieme a otto attivisti del Movimento per la Liberazione del Popolo Goni, fu impiccato. Questa canzone è dedicata a lui e a questi meravigliosi eroi che hanno combattuto con un desigile molto interdito, il diritto alla guerra! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!